Quando peschiamo a traina e le tanute non danno pace alle nostre schevive, soprattutto a seppi e calamari, c'è un modo molto semplice per ingannarle. Inneschiamo una stresciolina di calamaro vicino a un octopus bianco e lo trainiamo vicino al fondo dove ci hanno mangiato le tanute e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare.